La mostra più interessante e stimolante della primavera new yorkese si chiama Strange New Beauty, una strana nuova bellezza, e si tiene in questi giorni al MoMA. Ne è protagonista l'arte di Iler Germain Edgar Degas, noi lo conosciamo solo come Edgar Degas, uno dei grandi artisti dell'impressionismo francese. Ritengo che si tratti di una mostra particolarmente interessante perché riesce a smentire alcuni luoghi comuni e nello stesso tempo ci offre un ritratto inedito di questo grande artista. Il primo luogo comune che smentisce che un artista debba essere in qualche modo maledetto, bohemian e povero. Degas non aveva nulla di maledetto, nulla di bohemian, e nulla di povero, veniva da una famiglia benestante se non addirittura ricca. Il nonno era veneziano, si chiamava Degas, scritto in due parole distinte. Il secondo luogo comune è il fatto che l'artista sia portatore di idee nobili. Ebbene, Degas spesso, ripetutamente, ha portato avanti idee ignobili, eppure continuava a essere un grande artista. Quali erano queste idee ignobili? Innanzitutto era un tremendo antisemita. Per esempio, all'epoca dell'affare Dreyfus si schierò decisamente e ferocemente contro il povero capitano Dreyfus. E non possiamo dimenticare un quadro del 1879 intitolato Alla borsa, nella quale sono raffigurati degli agenti di borsa chiaramente ebrei con antipatia, con razzismo, con odio, con antisemitismo. Tuttavia il quadro rimane straordinario. Il terzo elemento che a mio avviso è interessante è quello della generosità dell'artista, perché un altro luogo comune vuole che l'artista sia totalmente egocentrico, egoista, disinteressato agli altri. Ebbene, Degas da un lato teorizzava che l'artista debba essere solo, debba essere un misantropo, e lui lo era. Era un uomo scorbutico, molto intelligente, dalla battuta sempre pronta, ma anche crudele. Ma nello stesso tempo era estremamente generoso. Per anni e anni ha acquistato, lui personalmente, quadri dei suoi colleghi che non riuscivano ad avere successo. In realtà poi collezionando anche una straordinaria raccolta di arte, ma lui lo ha fatto in primo luogo per aiutare amici, come ad esempio Vincent van Gogh. Il quarto e ultimo luogo comune è quello che un artista abbia una sola idea ripetuta in tante forme diverse. È vero, moltissimi quadri di Degas hanno per tema le ballerine, oppure degli uomini e delle donne che vanno a vedere le corse. Ma come abbiamo già raccontato da questo straordinario quadro, orribile nel contenuto, alla borsa, Degas si è sperimentato e ha trovato la sua forma espressiva anche in tantissimi altri soggetti. In questa mostra in particolare vediamo una nuova forma di sperimentazione, quella dei cosiddetti monotipi, che è una forma ibrida, ammetata al disegno, il pastello e l'incisione. Nulla di nuovissimo per quanto riguarda l'arte, perché l'inventore di questa forma è un italiano, il grechetto Giovan Battista Castiglioni. Eppure Degas l'ha cambiata, cercando di capire come uno stesso soggetto possa essere ritratto sempre in maniera nuova, cambiando la forma interna della composizione. Quindi il miracolo di questa mostra al Mooma, che consiglio a tutti, consiste nell'avere un ritratto a tutto tondo di un uomo e di un artista, che parte da una sperimentazione quasi sconosciuta. Ne viene fuori un uomo contraddittorio, completamente generoso, egoista, reazionario, eppure empatico nei confronti del mondo, politicamente imbarazzante, eppure illuminato per altri versi. Era un uomo che detestava il telefono come segno della modernità, ma era nello stesso tempo un artista che riusciva a intuire la profondità e l'ambiguità di ogni essere umano. Un saluto da Central Park West.